Ed eccomi qui, sono assente, però volevo comunque inviarvi un saluto. È stato molto bello scegliere in un anno così difficile i più bravi, i più bravi di questo mestiere. Ognuno di loro ha segnato un passaggio di questo anno e ha dimostrato che nei momenti difficili i più bravi comunque non vengono meno. Ringrazio, così a caso, scusate se mancherà qualcuno, ringrazio Giovanna Botteri, ringrazio Vienello, ringrazio San Giuliano, ringrazio Minà, ringrazio naturalmente anche Giovanni Grasso che effettivamente ha fatto un duro lavoro, specialmente dal palazzo di cui lui è il comunicatore. E infine volevo ringraziare i due premi che veramente poi ho sostenuto, mi sono stati a cuore. Uno era il The Post International, un piccolo sito davvero grassroot, nato dentro internet da un gruppo di ragazzi che se l'è finanziato lo tiene in piedi da 10 anni da soli, senza editori, senza figure anziane che lo sostengano e che quest'anno ha fatto il salto il sito perché è riuscito a trovare dei documenti che poi sono stati fondamentali per ricostruire la vicenda di Bergamo, dei morti di Bergamo. E lì con loro, io quest'anno ho seguito moltissimo perché credo è stata un'esperienza che ci ha reinsegnato qualcosa del giornalismo, leggo di Bergamo, un piccolo giornale che applicando le regole del giornalismo tradizionale per l'appunto avere dei giornalisti che vanno a ricostruire il numero e dunque le voci, le case, l'indirizzo di chi è morto, è riuscito a trovare le vere dimensioni per prima della tragedia che abbiamo vissuto. L'ha premiato già il New York Times con la sua prima pagina, abbiamo fatto bene a premiarlo noi da Ischia. Saluto tutti e il mio amico Giulio Anselmi, grandissimo giornalista che ha insegnato il mestiere a tutti noi e anche ai Valentino che hanno tenuto aperta la porta di questo bel premio. al prossimo anno.